Termina un anno, ne inizia un altro, è tempo di bilanci, in tanti cominciano a dire i buoni propositi, la lista delle cose migliori da fare, ognuno ci mette del suo, ci sono tantissime persone che sul web, sui social, fanno dei video, perché in qualche maniera devono a più parti soldi, sì il termine è giusto, a più parti un nuovo sistema per diventare ricco, un nuovo sistema per far produrre soldi, sembrerebbe dal nulla, c'è gente che fa vedere i propri conti in banca, c'è gente che fa vedere sale stravolme di persone, no? Io sono molto più semplice, sono molto più diretto, voglio essere anche molto più leale, io ti dico una cosa sola, io ho scritto questo libro ed è quello che tenterò di farti acquistare alla fine di questo video, molto semplicemente, perché ho scritto questo libro? Perché io dal 1984 sono un imprenditore, quindi in questi anni ho fatto qualcosa, sto bene economicamente, vivo in maniera decente, mi ritengo al di sopra della media, per cui non ti voglio vendere, non ti voglio proporre un sistema per diventare ricco, ti voglio proporre un sistema per stare bene, per ottenere quello che vuoi, indipendentemente se quello che vuoi è trovare un lavoro migliore rispetto a quello che hai, trovare un lavoro perché non ce l'hai, essere più organizzato, evitare continuamente di arrivare tardi, prendere un sogno che hai nel cassetto e farlo diventare realtà, bene, questo libro si intitola fra il dire e il fare c'è di mezzo il fare, perché? Perché le cose per ottenerle bisogna farle, non bisogna soltanto pensarle e quindi che cosa ti dirò in questo libro? Ti dirò come evitare di procrastinare, come essere grati al mondo, come fare relazioni, come incontrare sempre nuove persone, come creare un business, ti dirò come essere migliore. Io credo fermamente che non bisogna fare cose diverse, ma bisogna fare le cose diversamente, ecco quello che cercherò di dirti. Quindi questo video lo troverai disponibile solo per pochissimi giorni, solo per pochissimi giorni avrai l'opportunità di scaricare il primo capitolo di questo libro che parla di me, che parla di quello che ho fatto, proprio per farti capire chi sono e quello che ho fatto nella mia vita. Troverai all'interno del capitolo anche un sistema che io ho chiamato action plan che deve servire per rendere pratico quello che leggerai. Questa è la grande novità, è quello che veramente mi interessa mettere a disposizione. Io in questo momento mi occupo di mentoring. Il mentoring, a differenza della formazione, del coach, di tutte queste parole che vanno in giro, il mentoring è un trasferimento di esperienze. Chi può trasferire le esperienze? Solo chi le ha, provate, chi le ha messe in campo. Quindi io ho messo in campo una serie di esperienze in questi oltre 34 anni di mia vita imprenditoriale e te le voglio mettere a disposizione. Attraverso questo libro, attraverso il primo capitolo che puoi scaricare gratuitamente, che contiene anche l'action plan di riferimento, poi potrai decidere. Se decidere di acquistarlo non farai contento mai perché io ho messo a disposizione i miei diritti alla lega del filo d'oro. Quindi quando acquistarai questo libro starai arricchendo te stesso e starai facendo qualcosa, pochissimo, qualcosina di bello per qualcuno, per qualcuno che è un po' meno fortunato. Questo è il bello di mettere a disposizione, è il bello di relazionarsi, è il bello di dire cosa posso fare per te. Oggi quello che posso fare per te, è che vorrei poter fare per te e darti questa opportunità. Non devi fare altro che andare sul link fra il dire e fare, cioè di mezzo ilfare.it. Scaricare il primo capitolo, poi potrai decidere se acquistarlo o meno, ma devi farlo perché è inutile parlare fra il dire e il fare, cioè di mezzo il fare. Quindi vai immediatamente a scaricare il primo capitolo di questo libro e ti auguro veramente di poter fare qualcosa per te stesso e quindi lo farai anche per gli altri. Ti do un grande, un grandissimo saluto, un grandissimo augurio di buon fare.